Andrea una delle domande che ci hanno posto sul canale è quella di fare un confronto tra le altra Thorin 5 e Rivera scarpe che abbiamo testato nelle settimane scorse delle quali è presente una recensione per le Rivera e che presto ci vedrà recensire pure le Thorin. Cosa ne pensi di queste scarpe? Devo dire innanzitutto nettamente più spaziose delle Rivera nettamente più più morbide nell'intersuola qua tutta bella cicciottina e più rossa. Secondo te Andrea chi sono adatte queste due scarpe e secondo te c'è una differenza di tipologia di ipodistamatore? Allora sono scarpe per atleti relativamente leggeri io davvero a suo prezzo 75 kg le vedo male le vedo come scarpe da allenamenti brevi cioè tipo delle corse lente sui 10-12 km massimo e secondo me è corso anche un buon ritmo perché comunque sono delle scarpe che ti fanno correre in avampiede quindi ti fanno spingere non sono scarpe riposanti. La Thorin è per atleti un pochino più lenti secondo me invece la Rivera è scarpa per atleti un attimino più veloci. A livello di ritmi che differenze hai notato e se dovessi parlare dal 3 al chilometro fino al 7 al chilometro quale delle due utilizzeresti per quali ritmi? No allora sicuramente le Rivera le utilizzerai per le corse un pochino più svelte ti devo dire che vi aggiucchiano abbastanza. Le Thorin invece le ho usate a 4 e 30, 4 e 20, 4 e 10 anche ci vanno ma le spingi quindi non è una scarpa così velocissima come mi aspettassi. Diciamo che sono scarpe fatte per lento ti fanno correre in avampiede e va bene per farci dei medi le vedo un po' due. Poi è ovvio che sia sempre lì sto parlando un po' di me ma credo che qualcuno ha delle corse, sto pensando oggi a Max che doveva fare il lungo a un medio a 4 e 30, 4 e 35 e la Thorin se la sarebbe potuta utilizzare. Invece cosa ne dici dell'intersuola? hanno una mescola relativamente diversa cosa ne dici? Sì una è la Ego e l'altra è la Ego Max sulla Thorin c'è l'Ego Max è un pochino più morbida sicuramente c'è anche un pochino più di mescola no neanche tanta forse sì un pochino no mi frega la colorazione della suola devo dire che comunque in generale quella della Thorin è più affonda un pochino di più è più morbida. E questo secondo te ha un impatto sulla biomeccanica di corso oppure invece tutte e due facilitano la corsa di avampiede? No no tutte e due facilitano la corsa di avampiede anzi quasi fin troppo perché devo dire che la Thorin ma anche la Rivera mi ha lasciato un po' gli affaticamente polpacci. Diciamo la verità è che era un periodo che stavo correndo tra topo e altra sempre con drop bassissimi quindi comunque ero già affaticato di mio sui polpacci e diciamo che in generale su scarpe un po' impegnative. Invece cosa dice a livello di battistrada? Avevi elogiato al massimo le Rivera? Hai notato le stesse caratteristiche sulle Thorin 5 oppure come si differenziano? Allora stavo dicendo mentre lo dicevi riguardavo le battistrada della Rivera che si stava consumando ho detto ma cosa sta dicendo Max e poi invece mi è ritornato in mente di quando ero su a Bormio che si scivolava invece con le Rivera no. Si sta un po' consumando il battistrada mentre quelle delle Thorin è molto intagliato anche lui in maniera diversa e questo è strano perché dici sono uscite più o meno insieme ma sono diverse ed è molto mi sembra molto più resistente il battistrada sulla Thorin. Invece a livello di grip? No a livello di grip scusami quando ho detto che era molto intagliata anche lei credo in genere non l'ho più provata col ghiaccio credo che non la proveremo più col ghiaccio per fortuna sembra che anche se c'è questa bellissima giornata oggi ma tiene abbastanza tiene molto abbastanza molto abbastanza Per quel che concerne la Tomaia che sensazione hai avuto e ti sembra il piede coccolato? Tomaia super 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 classica col tallone con la conchiglia praticamente inesistente morbida non mollissima come su altre scarpe ma morbida e si il piede non direi coccolato perché c'è tanto spazio e quindi il piede sta non è coccolato sta sta comodo dentro E invece preferisci la linguetta racing delle Thorin 5 oppure l'altra rivera che ha una linguetta classica? Quello è strano io avrei messo la linguetta racing sulla Thorin e quella racing sulla rivera invece ho fatto il controllo non so per qual motivo Comunque ti dirò preferisco forse quella normale perché su delle scarpe da lento non ha senso mettere una una linguetta così racing diciamo La linguetta cicciosa è un'altra che ti rende il piede più ti rende più comodo il piede dentro nella scarpa Sono cambiati anche i lacci non so se hai notato qualcosa di particolare No sono cambiati ma ormai faccio sempre triplo nodo per evitare di fermarmi ad allacciare le scarpe quindi non ho notato differenze Sicuramente sono meglio questi qua sulla Thorin rispetto a quelli della rivera A livello di durata cosa dici? Stiamo parlando di 600 km o le potresti anche portare a 1000? Ma guarda io a 1000 non ci porterei nessuna scarpa sono sicuramente le scarpe che durano di più della rivera e secondo me 700 km te li fanno Poi conta che sono scarpe di corsa di avampiede relativamente scariche non ci tirerei troppo la corda Quindi rimarresti sui 600? Ma anche 700 forse dai rischio così A livello di stabilità cosa hai notato di queste due scarpe? Secondo te sono scarpe stabili oppure non le consideresti per pronatori? No beh ascoltami guarda quanto è largo la pianta sono scarpe molto stabili poi corsa di avampiede quindi fondamentalmente c'è poca pronazione Se dovessi dare un consiglio al podista amatore tra uno dei due modelli quale suggeriresti? Bella domanda questa non saprei allora se dovessi guardarle così come scarpa fuori prenderei una Thorin Forse per piacere di corsa andrei sulla rivera che non so mi è sembrata un pochino più dinamica Quindi per l'idea della scarpa e per l'utilizzo che ne faccio io di una scarpa così qualche volta quando ho voglia di correre un pochino più forte o che sto meglio di gambe preferisco la rivera in generale Andrea suggerisci stesso numero o mezzo numero in più per queste Thorin 5? Stesso numero numero più piccolo questa qua è un mezzo numero più grande ma direi che il mezzo numero va sempre bene Grazie Andrea nei prossimi giorni faremo la recensione completa delle Thorin 5 Stay Strong Keep Running e ci vediamo alla prossima Ciao alla prossima Ciao